Cari amici Telebari, bentornati a tempi supplementari. Non l'ho fatto in apertura, ne approfitto per farlo adesso. Vi ricordo, è possibile seguire tutte quante le nostre trasmissioni attraverso il sito internet www.telebari.it Piccola parentesi ancora, un grazie alla regia oggi composta da Michele ed Alessandra. La regia è importante, ma è importante anche sapere le notizie di mercato. Siamo praticamente nel pieno, nel fermento più totale per le grandi manovre che faranno le grandi squadre del nostro campionato di Serie A. Per parlare di questo e di molto altro abbiamo scelto una delle voci più autorevoli, una voce amica di Mediaset. Diamo il benvenuto a Gianni Balzarini. Benvenuto Gianni. Ciao, buongiorno a tutti. Gianni, è un momento veramente delicato. Perché? Partiamo dalla Juventus. È la squadra che rischia di cambiare pelle nel momento in cui dovrebbe invece semplicemente trattenere tutti e acquisire qualche campione in più. Invece Radiomercato ci dice che Morata e Quadrado sono un po' più lontani. Sì, ma è una cosa che del resto si sapeva. Per quanto riguarda Quadrado era un prezito secco e di conseguenza era normale che tornasse alla casa madre, cioè al Chelsea, anche perché comunque è sempre stato lui un pallino di Conte. Conte lo voleva già la Juventus due anni fa, fu uno dei motivi della discordia. E quindi va da sé che Quadrado, nonostante abbia espresso più volte il desiderio di poter rimanere a Torino, torni al testo secco. Che non significa che la Juventus non possa comunque ricontattare il Chelsea per ottenere la possibilità di avere Quadrado anche il prossimo anno. È ancora tutto in forza e anche perché Gianni, penso che sia una notizia che sai anche tu, Quadrado più che altro non è allettato dalla possibilità di tornare in Inghilterra più che altro. No, certo che no, perché comunque lui non si era trovato bene in quel tipo di calcio e quindi ha espresso più volte perplessità per questa possibilità di rientrare nel Chelsea. Si fa da sé anche il fatto che comunque se hai un allenatore che ti vuole, che ti stima come Antonio Conte e che magari fa di te un perno del suo gioco, allora è chiaro che tutte le prospettive cambiano e anche il giocatore quindi possa sentirsi molto più appagato dall'idea di tornare a Chelsea. Ci sono grandi manovre soprattutto per l'attacco fra tutte quante le grandi società di Serie A. Addirittura c'è una voce che è quella di Guain al Paris Saint-Germain. Di fatto il Valzer degli attaccanti è aperto da Morata. Morata è praticamente certo, tornerà a Real, la Juve incasserà una discreta cifra. A tuo avviso quale sarà l'obiettivo della Juventus? Quello di acquistare ad esempio un giocatore alla Lukaku, un po' per far contento Raiola, un po' per far contento Pogba e un po' per acquisire un giovane ragazzo di prospettiva, oppure si punterà al crack, ovvero al giocatore veramente forte e rodato, magari vicino ai 30 come Cavani, che è dell'87. Ma innanzitutto anche lì, vediamo un attimo di far chiarezza sulla questione Morata. È vero che Real Madrid eserciterà una recontra, la recontra, ma è altrettanto vero che è quasi impossibile che il giocatore rimanga in Real Madrid, perché comunque il Real ha dei contatti con società inglesi, Arsenal per esempio, su tutte, molto interessate a Morata, con offerte che supererebbero quella che comunque la Juventus sarà pronta a fare nel caso della riacquisizione di Morata da parte del Real Madrid. La Juventus cercherà comunque di ricordarselo indietro. Questo non significa che andrà a buon fine l'operazione della Juve, anzi sono abbastanza pessimista in questo senso. Questo è il primo punto. Andasse via appunto Morata, ci fosse l'ufficialità della decisione di Morata, allora a questo punto credo che la Juventus si orienterà su un cosiddetto crack, perché il crack esiste già, che è di bala, e quindi la Juventus si orienterà su un giovane che possa accettare il fatto di non essere titolare. Anche Berardi potrebbe entrare in quest'ottica, quindi preso da attaccante? Sì, potrebbe entrare in quest'ottica, perché è un giocatore molto duttile, nel senso che può essere impiegato come esterno alto in un 4-3-3, può anche agire da trequartista, volendo, e quindi è un giocatore che ha molte possibilità di trovare spazio all'interno di una squadra come la Juventus, considerando che anche l'anno prossimo la Juve si impegnerà al massimo su tre competizioni, cioè la campionata Coppa Italia e Champions League. Gianni, andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito per continuare a parlare di mercato.